Un personaggio di assoluto carisma e valore criminale del clan Amato Pagano che noi cercavamo già da tempo, era stato colpito da una recente misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla DDA di Napoli, questo mese praticamente però era riuscito a sfuggire all'arresto, era gravato da un'altra misura di custodia cautelare in carcere sempre per l'associazione di stampo mafioso emessa nel 2011 sempre dalla DDA di Napoli quindi era uno dei personaggi sicuramente più ricercati da parte della squadra mobile di Napoli e quindi ritengo che sia un ulteriore successo investigativo anche per il suo valore all'interno del clan stesso. Si trova a Mugnano di Napoli, si trova con i suoi familiari all'atto dell'irruzione avvenuta alle prime luci dell'alba di stamattina, non ha posto resistenza, non era armato, si trovava appunto con i suoi familiari e abbiamo anche sequestrato una rilevante somma di danaro contante. Io credo che il clan sia ancora, nonostante abbia ricevuto dei durissimi colpi anche di recente ritengo che sia ancora operante, il personaggio certamente è un personaggio di carisma in grado di reggere le fila del clan e di organizzare le attività illecite dello stesso.